Allora passiamo a parlare della TAV, dell'alta velocità. C'è una nota da parte del Comune di Portogruaro. Il Sindaco Bertoncello si impegna a convocare il Consiglio Comunale per trattare l'argomento già previsto a Portogruaro, subito dopo l'incontro con il Commissario straordinario. Per essere utile e proficuo, dice Bertoncello, il Consiglio Comunale sarà convocato solo dopo questo incontro, che potrà fornire all'amministrazione elementi di certezza sull'opera. Prima di ciò sarebbe una perdita di tempo e sarebbe inutile parlarne.